Le malattie polmonari croniche ostruttive, come asma e broncopatia, costituiscono da diversi anni un importante problema di salute nel mondo. Oggi, al Parco Hotel di Piacenza, un convegno di pneumologi ha messo a fuoco le ultime novità sulla diagnosi precoce e sul trattamento di queste patologie così diffuse. L'età piacentina è complessa per il semplice motivo che viviamo in un posto che conosciamo tutti, abbastanza inquinato, abbiamo pazienti cronici abbastanza numerosi, abbiamo una malattia sottodiagnosticata in un 50-60% di persone, significa che molti piacentini girano per la città, hanno la malattia e non sanno di averla. Per cui si sta parlando di intercettarli precocemente nelle strutture territoriali, vedi Casa della Salute, nell'integrazione ospedale-territorio, di come poi questi pazienti devono afferire in ospedale, mandateci dalle medici di medicina generale, per trattarli precocemente, intercettarli precocemente, impedire che la malattia vada avanti e migliorare la loro qualità di vita. Le ultime novità nel trattamento dei pazienti con asma sono state affrontate dalla dottoressa Beghe dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Anche quella di utilizzare soprattutto un farmaco al bisogno che non sia solo sintomatico, ma che permette che sia più sicuro e abbia in associazione anche l'osteroide inalatorio, che veniva una volta utilizzato solo nel trattamento di fondo, come cosiddetto controllore dell'infiammazione. Invece adesso si deve usare in associazione al sintomatico, che è il broncodilattatore, anche nelle forme più lievi e sempre per quando c'è il bisogno in più alla terapia che uno deve prendere costantemente. Tra gli argomenti trattati anche le terapie alternative endoscopiche nei casi di asma grave. Si tratta di una terapia che utilizza la radiofrequenza e che viene applicata direttamente sulla mucosa bronchiale. I risultati che abbiamo avuto in questi anni sono molto incoraggianti, soprattutto perché parliamo di pazienti che hanno già fatto tentativi di terapia farmacologica, che non ha avuto risultati. È una categoria per fortuna di piccole dimensioni, ma parliamo del 30-40% dei pazienti con asma grave e che quindi sono orfani di terapia e che con questa terapia hanno trovato una valida alternativa con ottimi risultati.